Ecco tracciata, a grandi tocchi, la storia del culto dei morti, dal che risulta che le sentenze del Concilio di Trento, la tradizione cattolica e le liberazioni dei Santi sono concordi nello stabilire, in modo irrefragibile, la credenza del Purgatorio. Ora si presenta l'altra questione importantissima del luogo dove il Purgatorio si trovi. La Chiesa non si è mai pronunciata su questo argomento, lasciando i teologi liberi nelle loro opinioni. Vedremo quello che pensano i mistici, ci intratterremo sulle rivelazioni dei Santi. Intanto riportiamo un'interessantissima pagina del professor Cholet, i nostri defunti. Fuor di dubbio il Purgatorio è luogo di prigionia e può dirsi pure che l'anima vi è in un certo modo incatenata. Di fatti il Purgatorio è un castigo fatto di fuoco, probabilmente materiale, ed ogni materia occupa dello spazio. Di più l'anima è preda di questo fuoco e vi è abbandonata per divina potenza, ne può sfuggirne fino al momento della sua completa purificazione. Tuttavia essa conserva dei contatti col mondo esteriore. Vedremo più tardi che il fuoco della divina giustizia, sebbene terribile immateriale le realtà, è fornito di qualità che lo fanno ben differente da quello che consume il legno, arido, o rende liquido il metallo arroventato. Soprattutto è un fenomeno che appartiene al di là, vale a dire ad un ordine materiale diverso da quello del nostro mondo sensibile. Al modo stesso che i corpi resuscitati, sia degli eletti che dei repropi, sebbene i corpi veri rivestiranno delle qualità assolutamente diverse da quelle della vita presente, così pure il fuoco, che tormenterà questi ultimi, possiederà un carattere speciale. Chi impedisce d'altronde di considerare il fuoco del purgatorio come una materia avente analogia nelle sue qualità spirituali con quelle dei corpi glorificati? E se così è, questo fuoco non potrebbe avere come appunto i corpi glorificati, come il corpo eguaristico del Salvatore, una localizzazione diversa da quella dei corpi terrestri? Oltre a ciò non è punto necessario supporre, riunito in una sola massa ardente, tutto il fuoco che tormenta le anime. Non v'è nessuna necessità di sostenere che il fuoco, che purifica l'anima di Pietro, abbia trovarsi nel luogo stesso insieme a quello che purifica l'anima di Paolo. Questo fuoco si apprende all'anima e la chiude fra le sue vampe. L'anima, col suo senso misterioso, è avviluppata dentro quest'ardore. Ma perché non potrebbe, quella allo stesso tempo che vi è imprigionata, raggirare al di fuori e vedere intorno a sé, quel fuoco d'altronde non è assegnato, come pare, ad un luogo fisso. Aderente all'anima, la segui in ogni immoto, l'invade tutta del suo misterioso ardore e con lei si trasferisce, a cui sa di fornace accesa nel cuore, che il suo ardore diffonde in tutto l'organismo, circola nelle vene e nelle arterie, il raggio nei nervi e nei muscoli, in qualunque luogo divora la sua preda. Se è così, il purgatore apparebbe piuttosto uno stato che un luogo. E lo stato delle anime giuste, ma non del tutto purificate, sarà simile alla condizione dolorosa dei figli che hanno offeso il padre e sono privi, per qualche tempo, di vederne l'aspetto. Al supplizio di cuori amanti, straziati dal rimorso delle offese, che rammentano fatte al padre amato, nello stesso modo sarà il castigo del fuoco. L'anima trascinerà a sé con il suo supplizio, come l'augellino ferrito dal piombo omicidiale, porta seco infissa nel fianco la morte e corre l'aria con volo doloroso. Essa non avrà perduto, perciò, ogni contatto con questo mondo, come non l'ha perduto col cielo. Ciò premesso, dato che, come si è accennato sopra, siamo in un campo assai libero, veniamo alle rivelazioni dei santi. Santa Francesca Romana ci fa sapere che il purgatorio non è che uno scompartimento dell'inferno, che secondo la santa sarebbe diviso in quattro parti, la prima delle quali costituisce il vero e proprio inferno dei dannati, che trova sia al centro, mentre le altre parti costituirebbero il purgatorio, il limbo dei santi padri e il limbo dei fancioli morti senza battesimo. La descrizione di Santa Francesca Romana è conforme all'opinione di San Tommaso, secondo il quale il fuoco del purgatorio è tutto simile a quello dell'inferno. Tuttavia non è escluso che la giustizia divina permetta talvolta che le anime soddisfino alla pena dei loro falli nei luoghi stessi dove peccarono e vissero, o si rivedono comunque in determinati luoghi. Non mancano antiche rivelazioni narrate da San Gregorio Magno e da San Pier Damiani degli scritti intorno ai miracoli del suo tempo.